Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto stampanti laser HIGH Quality Toner Cartridges. HIGH Quality Toner Cartridges per canoni SENSIS LBP 5300-5360MF 8450-9130-9170-9220-9280 Sostituito N2X EEP 711BK, 2X EEP 711C, 2X EEP 711Y, 2X EEP 711M Cartucce Immerspar Set Compatibile Premium Kit Alternative Non OEM Sostituito Canon EEP 711BK, 711C, 711M, 711Y Colori 2X Black Nero, 2X Chan, 2X Magenta, 2X Yellow Giallo Compatibile a canoni SENSIS LBP 5300-LBP 5360-MF 8450-MF 9130-MF 9170-MF 9220-Cdn MF 91280-Cdn Compatibile a canoni SENSIS LBP 5300-LBP 5360-MF 8450-MF 9130-MF 9170-MF 9220-Cdn-MF 9280-Cdn Il nostro prodotto è la sostituzione compatibile del modello OEM. Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazon IT, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione.